Oggi ci troviamo in Germania. Siamo qui per un viaggio di tre giorni alla ricerca di ricambi Unimog, di personaggi legati all'Unimog. Mi trovo all'interno del pick up di Erasmog. Come vedete gli spazi sono un po' stretti perché abbiamo bisogno di tanto spazio per i ricambi. Alla guida c'è lo stesso Erasmog che potete vedere impegnatissimo. Ora come prima tappa abbiamo la consegna di un paraurti e di finestrini laterali per un 421 Cabrio. Dopodiché andremo da Pascal che è il titolare di HP Osten, un ricambista Unimog. E dopo ci trasferiremo alla Merex a Gaggenau e al Museo Unimog di Gaggenau. Oltre a visitare la libreria dedicata agli Unimog a fianco al museo. Unimog di Gaggenau e al Museo Unimog di Gaggenau e al Museo Unimog di Gaggenau. Unimog di Gaggenau e al Museo Unimog di Gaggenau. Qulausi e al Museo Unimog di Gaggenau. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un solo pensiero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.